per fortuna questo è un video e quindi non puoi sentire l'odore che arriva dalle mie mani che non sarebbe neanche tanto cattivo ma ho appena finito di cucinare uno spaghetto con il gambero davvero epico me lo dico da solo ma che mi ha lasciato questo simpatico ricordino per cui alla fine del video sarò costretto a disinfettare probabilmente con il napalm sia la tastiera che il mouse ma veniamo a noi di che cosa dobbiamo parlare oggi di una nuova minaccia molto importante che va a toccare molto da vicino in primis chi utilizza gmail ma che è capace di attaccare praticamente qualsiasi altro tipo di account andando ad inficiare anche la sicurezza ad esempio dei conti bancari oppure di altre situazioni che possiamo avere sul web per fortuna esistono due soluzioni che se utilizzate contestualmente sono in grado di metterci completamente al sicuro e sono anche abbastanza semplici da mettere in atto e allora non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere di che cosa si tratta ti senti pronto iniziamo è proprio di poche ore fa la notizia che si stanno intensificando in maniera esponenziale gli attacchi a diversi tipi di account tra cui anche gli account gmail questo avviene perché recentemente sul dark web è stato diffuso un nuovo tipo di malware che solo verso la fine del mese di marzo è stato in grado di produrre un giro criminale di affari di circa 400 mila dollari e dire che sarebbe davvero semplice proteggersi da queste minacce adottando in particolar modo due precauzioni che a quanto pare non vengono assolutamente messe in atto dalla maggior parte degli utenti e allora andiamo a vedere quali sono in modo da iniziare bene la nostra giornata il buongiorno si vede dal mattino e infatti io sto caricando l'ettame una citazione o un pochino di nicchia che sono veramente curioso di scoprire se sarai in grado di dirmi da quale film è stata tratta possono rispondere naturalmente tutti quanti i membri della community escluso neon perché con lui ne abbiamo recentemente parlato in un commento ma veniamo a noi la rivista hd blog titola così google gli attacchi informatici basati su falle zero day sono in grande crescita ma questo lo sapevamo quello che ci viene detto invece e che ci interessa molto è che nelle scorse ore google ha pubblicato uno studio secondo cui il numero di esploat basati su vulnerabilità zero day è in grande aumento tra un attimo vedremo che cosa sono gli esploat e le vulnerabilità zero day nel 2023 infatti ne sono stati scoperti 97 ovvero più o meno il 50 per cento in più rispetto al 2022 almeno la metà di questi esploat e di questi zero day è motivata da fini di spionaggio e in circa due terzi dei casi gli hacker prendono di mira dispositivi e tecnologie molto comuni e diffuse anche nella sfera del privato tra cui smartphone browser web chrome e safari in particolare come vedremo sistemi operativi e web app lo stesso articolo ci informa che gli zero day cosiddetti sono delle vulnerabilità che non sono ancora state scoperte quindi non sono note ai ricercatori di sicurezza e a tutti coloro i quali avrebbero il compito di proteggere i nostri pc e che quindi non sono state ancora pacciate come si dice in gergo ovvero non sono state emesse le opportune correzioni per chiudere questo genere di falle gli esploat invece come leggiamo nel sito stesso altro non sono se non dei software che sfruttano delle vulnerabilità per intrufolarsi in un qualsiasi sistema una domanda che viene spesso posta è come mai google chrome oppure windows siano così pieni di vulnerabilità oppure di attacchi di tipo esploat ebbene devi considerare semplicemente una cosa ovvero che ad un malintenzionato un attaccante qualsiasi costa moltissima fatica in moltissimi giorni di lavoro andare a caccia di una vulnerabilità zero day oppure creare un esploat efficace naturalmente questo diventa molto pagante nei confronti di sistemi di largo utilizzo mentre sarebbe sostanzialmente del tempo sprecato per andare ad attaccare dei sistemi utilizzati alla fine dei conti solo da una manciata di utenti se andiamo infatti a guardare le statistiche di utilizzo dei vari browser a livello italiano e mondiale ci accorgiamo che chrome viene utilizzato da quasi il 65 per cento degli utenti e quindi praticamente due terzi degli utenti mondiali utilizzano chrome edge viene utilizzato per quasi il 13 per cento safari quasi per il 9 per cento firefox per il 7,5 per cento opera per il 3,2 per cento mentre il resto del mercato è occupato da browser di secondo piano alla luce di queste considerazioni ci sarà decisamente più semplice comprendere ed interpretare questo grafico che opera un raffronto tra le vulnerabilità scoperte nell'anno 2023 rispetto all'anno 2022 per tutti quanti i sistemi analizzati l'articolo ci informa infatti che windows mantiene la maglia nera per numero di esploat realizzati con un bel 17 tuttavia non si tratta della piattaforma maggiormente in crescita su base annuale perché in questa categoria vince safari il browser di apple che nonostante la scarsa diffusione da tre esploat presenti nel 2022 è passato addirittura ad 11 esploat nel 2023 android ed ios sono a pari merito con 9 esploat mentre non è corretto quanto riportato dall'articolo perché come vediamo nel grafico google ha perso una vulnerabilità rispetto al 2022 passando da 9 ad 8 vulnerabilità ma da chi e perché vengono perpetrati questi attacchi lo scopriamo proseguendo con la lettura di questo articolo infatti in questo grafico scopriamo che se il 17,2 per cento è motivato da ragioni finanziarie ad esempio spionaggio industriale oppure piccoli furti il 41,4 per cento è dovuto alla vendita dei cosiddetti spyware commerciali come vedremo proprio tra un attimo ma una percentuale uguale è derivante dallo spionaggio internazionale per ragioni politiche perpetrato prevalentemente da cina bielorussia nord corea russia ed alcune volte da cina e bielorussia che operano congiuntamente ma proprio nell'ambito di questo 41,4 per cento dovuto ai venditori di spyware commerciali si va ad inserire il nostro problema del giorno ovvero l'uscita di un nuovo strumento per gli attacchi phishing come ci informa la rivista il software che rappresenta un pericolo concreto per gmail e tutti i sistemi 2fa ovvero che utilizzano l'autenticazione a due fattori l'articolo ci informa infatti che si sta diffondendo online un nuovo phishing kit che viene venduto sul mercato nero e quindi prevalentemente sul dark web che stando al rapporto di alcuni esperti del settore rappresenta un serio pericolo come detto per gmail e per tutti quanti i sistemi di autenticazione a due fattori ovvero ad esempio le impronte digitali gli smartphone e così via proseguendo nella lettura dell'articolo ci accorgiamo che questo malware per bypassare i sistemi di autenticazione a due fattori o ruba i dati digitati dalle vittime in alcuni form fittizi ovvero in alcune pagine che vanno a simulare la pagina originale dove vengono inserite le proprie credenziali oppure ancora va a rubare direttamente i cookies di sessione che permettono l'autenticazione diretta aggirando appunto l'autenticazione a due fattori stessa oltre infatti alla raccomandazione classica di avere un buon antivirus installato sul proprio sistema di cui abbiamo parlato tante volte ci sono tuttavia due accortezze fondamentali da mettere in atto sui propri sistemi per evitare questo genere di problemi come leggiamo in questo articolo infatti google recentissimamente ha corretto ben sette vulnerabilità su chrome e quindi sarà indispensabile andare a verificare di avere una versione di google chrome aggiornata sul proprio computer farlo è semplicissimo ci basta andare qui in alto sui tre puntini verticali scegliere la voce guida al suo interno cliccare sulla voce informazioni su google chrome e una volta aperto verrà effettuato un controllo automatico che ci dirà se chrome è stato aggiornato ma nel caso in cui non lo fosse andrà automaticamente ad effettuare l'aggiornamento senza bisogno di fare assolutamente nient'altro ma il secondo e più importante consiglio che posso darti è quello di dotarti di una chiavetta esattamente come questa si chiamano chiavette fido 2 ne abbiamo parlato in un video precedente che ti lascio qui in alto per tua comodità nel caso che te lo fossi perso e sono l'unica vera soluzione efficace ai furti di credenziali ci tengo a specificare che questo non è assolutamente un video sponsorizzato che non ne faccio mai ma questo è il sistema che io stesso utilizzo per proteggere i miei account e che a livello mondiale al momento non è stato ancora bypassato o forzato in alcun modo per vederne l'efficacia andremo adesso a vedere tre brevi clip di come funzionano direttamente sul computer di un hacker questi attacchi nei confronti dei tre tipi principali di protezione ovvero le password l'autenticazione a due fattori con cellulare e proprio le famosissime fido chi attenzione tutto quello che verrà mostrato di seguito viene illustrato a puro scopo educativo e non verranno assolutamente fornite informazioni in grado di danneggiare utenti o rubare password in alcun modo quella che stiamo guardando è la rivista cloud brothers sul sito cloud brothers punto info che ci spiega in questo articolo perché è importante utilizzare una chiavetta fido 2 per la sicurezza dei nostri sistemi ci illustrerà infatti tre casi diversi di attacchi ad altrettanti utenti nel primo caso vedremo come viene rubata una password e vengono sottratti i cookies di sessione ad un utente che utilizza un sistema di autenticazione standard ovvero composto solamente da nome utente e da password nel secondo caso vedremo come vengono sottratte allo stesso modo le credenziali di accesso ad un utente che invece utilizza anche una autenticazione a due fattori per mezzo di uno smartphone nel terzo caso invece assisteremo piccolo spoiler al fallimento di un tentativo di sottrarre le credenziali ad un utente che invece utilizza un pendrive di tipo fido 2 prendiamo quindi un po più in basso nell'articolo fino ad arrivare al primo caso ed eccolo qui il primo caso in cui il nostro utente sta utilizzando il suo nome utente e andrà a digitare la sua password mentre contestualmente sul suo computer l'attaccante andrà ad intercettare tutta quanta la procedura richiederà di mostrare i cookies di sessione e questa operazione avverrà con successo mostrando tutte le credenziali dell'utente ed ecco il secondo caso in cui l'utente invece utilizza un'autenticazione a due fattori per mezzo dello smartphone come vedi a un certo punto gli viene richiesto di inserire il numero 14 sul suo smartphone ma tutti questi cookies vengono contestualmente intercettati dall'attaccante che può visualizzare i cookies di sessione ed avere un accesso completo all'account della vittima ed infine il terzo caso in cui viene utilizzata una chiavetta fido 2 l'attaccante tenta di intercettare i cookies di sessione gli viene richiesto di inserire un pin relativo alla chiavetta ma essendo le chiavette assolutamente univoche come puoi vedere l'operazione non va assolutamente a buon fine spero che questi esempi valgano più di mille parole e che riescano a convincere anche i più scettici della validità di questi sistemi di autenticazione che finalmente ci consentono di chiudere fuori di casa tutti quanti quegli estranei che vorrebbero disperatamente entrare ti sei chiusa dentro angela ti sei chiusa dentro angela qui piove com'è il tempo dentro chissà quale sarà invece il film da cui è stata tratta questa seconda clip se hai indovinato tutti e due i film magari fammelo sapere nei commenti se vuoi partecipare al nostro quizzone ma siccome mi sono dilungato tanto passo direttamente ai saluti che sono tutti per te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti appunto e darti come di consueto appuntamento alla prossima